Tu hai fatto anche un'inchiesta, c'è un giallo sui dati dei morti post vaccino, hai anche su questo argomento scritto un articolo, ma portando dati, numeri, ecco qua il tuo pezzo, portando dati, numeri, perché anche lì c'è una zona d'ombra gigantesca, insomma noi perché facciamo tutte queste storie? La gente può dire che palle ancora con questa storia, sì perché noi finché non riusciamo a capire la vera verità, cioè quella che risulta trasparente, che fa scopa con i fatti, non possiamo fermarci, perché questo riguarda la salute, la tenuta della democrazia italiana, cioè non possono arrivare questi signori mai visti né conosciuti e obbligarci alla rinuncia della libertà, delle nostre libertà personali, obbligare le persone a iniettarsi un liquido, un farmaco, un liquido, chiamatelo come vi pare, che loro hanno chiamato vaccino, ma che noi non sappiamo neanche se lo è, dovremmo credere a una multinazionale che ha guadagnato decine di miliardi su questo e che quindi si è salvata per le varie condanne che aveva già ricevuto nel passato dai fallimenti, che quindi in borsa ha fatto... cioè noi dovremmo fidarci di uno speculatore quotato in borsa e ficcarci nelle vene un liquido senza sapere cosa c'è dentro, senza poter avere documentazioni su sperimentazioni, perché sperimentazioni non ce ne sono state, fare le cavi ad una multinazionale quotata in borsa, già pluricondannata per pratiche scorrette farmaceutiche, ma ragazzi, cioè questo è il punto, abbiamo ceduto su questo, dico abbiamo plurale maiestà, cioè voglio dire avete le persone che hanno dovuto cedere, dovuto cedere, perché questi figuri vi hanno obbligati appena della lavoro, della vostra dignità, poter pagare il mutuo, portare il cibo ai vostri figli, e adesso ci sono persone che stanno male, dimenticate dallo Stato, le vediamo tutte le settimane, Mario Giordano per fortuna è ancora una piccola finestra sulla verità, perché porta e mostra le persone, mostra i volti, nomi, cognomi di persone che sono già stati accertati da anni che ha fatto questa robaccia, va bene? Ma voi ci avete detto che chi non lo faceva si ammalava e moriva, ce l'ha detto il Presidente del Consiglio, il Presidente della Repubblica, ce l'ha detto Letta all'epoca, che era il capo del PD, la libertà, il vaccino è la libertà, è la libertà, è la vita, ma di che state parlando? Ma allora noi che non l'abbiamo fatto, che ci abbiamo? Noi siamo extraterrestri? Tutto il mondo? Tutto il mondo non occidentale che non ha ceduto a questi ricatti, che è ancora lì bello in vita tranquillo? Che? Extraterrestri? Quindi sulla base di menzogne e di ricatti sul lavoro e sulla stessa sopravvivenza delle persone, avete costretto la gente ad iniettarsi un farmaco che sta avendo molti problemi? Certo, chi i problemi non ce l'ha e dice, a me che me frega? Beh, non è così che funziona la vita sociale, dovrete preoccuparvi invece di quelle persone che oggi stanno male, perché poteva capitare a voi di stare allo stesso posto. Vergognatevi se non vi preoccupate di vostri simili che hanno avuto problemi per essere stati costretti a fare un qualcosa. Maddalena? Guarda, io penso che molte persone non ne vogliano neanche più sapere per quanto sono state scottate, però ricordo questo. Il caso della pandemia è un caso emblematico perché ha toccato la nostra libertà individuale, che non è una libertà collettiva, è individuale. Libertà nel rispetto del prossimo, chiaramente, che non soltanto nel caso del Covid, ma come ho detto prima, anche per tutte le altre cose, noi potremmo arrivare a un punto che lo Stato, il famoso credito sociale cinese, non è così lontano, c'è gente come Bertolaso che dice che può funzionare, è un sistema a punti, cioè i nostri comportamenti, quindi che ne so, se io bevo due bottiglie di vodka a settimana, lo Stato potrebbe in questo schema stabilire che siccome mi faccio male, vado a intasare l'ospedale, io non ho diritto, quindi quando vado a infilare il bancomat per comprare la vodka non mi viene erogata. Faccio un esempio surreale, ma è lì il punto di caduta. Ripeto, è un esempio surreale, ma è il punto di caduta di questo schema. Lo Stato decide cosa mangio, cosa bevo, che farmaci prendo e questo non è più uno Stato democratico, è uno Stato etico. Se mi permetti, Maddalena, non è lo Stato in molti casi che decide, ma decide un terzo privato, come nel caso della censura social, ad esempio della censura in generale, che sarà così, perché queste società che oggi chiamano fact checker, come se loro possedessero la verità, e quindi fanno il check su tutti i fatti che secondo loro sono sbagliati. Loro possiedono la verità, sono Dio? Dio? Ecco, queste società che nascono come piccoli soggetti che uno si domanda, ma di che campano questi? Eh, di che campano? Di chi li sovvenziona? Perché? Perché stanno facendo le prove generali per tutto il resto. Perché oggi bloccano i social, cancellano account, demonetizzano, fanno tutto, fanno tutte queste cose qua. Ma dopo domani potrebbero essere incaricati per bloccare la vostra carta di credito quando diventate scomodi. Dice, ma io mi faccio gli affari miei e non divento scomodo. Ti sembra che non diventi scomodo? Perché oggi fare quello che per te è normale, ok? Adesso va bene. Ma quando quello che tu oggi fai, che ti sembra normale, che non potrà mai essere messo in discussione, sarà messo in discussione, perché nessuno di noi avrebbe mai potuto immaginare qualche anno fa che anche semplicemente avere un'idea diversa da un altro e poterla dire sarebbe stato un reato, no? Invece adesso lo sta per diventare, lo è già diventato in alcuni casi, perché loro stabiliscono la verità. E se non segui quella verità è un reato. Torniamo indietro di 100, 200, 300, no? Torniamo indietro. Esatto. E quelli che oggi si chiamano faccia, saranno i vostri aguzzini del futuro. Perché diranno che ha sbagliato, che ne so, andate in palestra, portate vostro figlio alla danza, cioè no, si vieterà perché magari, non lo so, sarà contraria. No, oggi è pure contrario mettere in un parco pubblico di Milano una donna che allatta un bambino, pensate un po', è diventato sgradevole, quindi è stato censurato. Anche questo. È tipico di tutti i regimi impartire ordini assurdi, perché gli ordini assurdi abituano... All'obbedienza. ...aste all'obbedienza. Quindi, come la camicia nera, che senso aveva la camicia nera? Non è che avesse un senso specifico, era forse simbolica per il colore, però non aveva... Però chi non rispettava quel tipo di ordini incorreva in seri guai e quindi proprio l'impartizione di ordini assurdi, come per esempio non andare al parco, sembra assurdo che durante il Covid hanno bloccato l'accesso ai parchi. L'accesso ai parchi, certo. Ma se uno ha una malattia respiratoria, deve andare all'aria aperta. Cioè, esatto. Questo è un classico ordine assurdo. Il coprifuoco è stato un altro ordine assurdo, però ha abituato le persone a rispettarli, cioè ha abituato le persone all'obbedienza. E quindi bisogna stare attenti perché poi l'ordine assurdo riguarda veramente la nostra vita quotidiana, la routine quotidiana. Certo. Perché accade questo? Perché il giornalismo, l'informazione va in un certo senso? Beh, ragazzi, voglio dire, segui il danaro, diceva un grande magistrato. Segui il danaro. E' anche comodo. Esatto. Segui il danaro, è comodo. Segui il danaro. Chi finanzia questa gente? Chi li finanzia? Guardate, spoilerino per la prossima settimana. Fondi dell'Unione Europea per la campagna elettorale, al gruppo Gedi, a tutti gli altri, poi ce ne sono tutti, c'è anche quelli della sera, ovviamente c'è di tutto, c'è un articolo, andatevelo a legge, poi lo approfondiremo la prossima settimana. Cioè, voglio dire, quello che noi degli anni 70-80, quando abbiamo fatto la nostra, io sono del 62, quindi negli anni 70-80 si è costruita la nostra, diciamo, coscienza, no? Quindi erano adolescenti, poi giovani. Quindi, abbiamo studiato in quegli anni, ma mai avremmo potuto pensare che i giornali potessero essere finanziati da quella politica che poteva andare alle elezioni? Ma ragazzi, il conflitto di interesse è strepitoso. Oggi è normale. È normale. È normale che questi giornali vengano finanziati e come faranno mai a poter criticare quei soggetti che li hanno finanziati? Se li hanno finanziati è per questo motivo. Non ce ne sarebbe un altro, no? Perché allora finanzi tutti. Perché non finanzi anche noi? No, perché non finanzi anche gli indipendenti?